Volevo chiedere a Valerio Rossi Albertini, siccome questa è come dire una, abbiamo sentito, l'ente parco chiede alla CEA, diciamo, moderazione nella captazione dell'acqua. Sappiamo che quest'acqua però non serve a innaffiare i giardini del parco di Versailles ma serve a far bere, insomma, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Ci fai vedere l'ecosistema? Come funziona? Quali sono i rischi per tutti? Guarda, ho portato proprio a questo proposito un prototipo di ecosistema di acqua salmastra ma anche assimilabile a quella lacustre. È una sfera che contiene in sé tutti quanti gli elementi vitali per la sostenibilità del, riesco a vedere e vedono anche gli spettatori, quindi i gamberetti che incrociano all'interno dell'ecosfera. Adesso la giro lentamente, vedete? Eccoli, arrivano. All'interno di questa ecosfera ci sono soltanto tre specie viventi, quindi è il sistema minimale, quello ideale per studiare e capire quali sono i fenomeni che si innescano nel caso vengano perturbati i parametri ambientali. Allora, vi voglio far vedere che all'interno di questa ecosfera ci sono dei gamberetti, e questi li abbiamo visti, dei batteri che servono per processare le sostanze organiche, queste non sono visibili ma soltanto al microscopio, e delle alghe. Allora, vi prego di guardare proprio la superficie di questa sfera. Siccome questa sfera è stata in pratica nelle medesime condizioni in cui si trova il lago di Bracciano e tutti quanti gli specchi e i corsi d'acqua, si è sorriscaldata e c'è stato un fenomeno di eutrofizzazione delle alghe. Prima l'acqua era perfettamente limpida, la superficie era cristallina, adesso invece si è velata. C'è un velo verde che mostra che c'è stata una perturbazione che ha favorito una specie vivente rispetto alle altre. Questo è quello che sta succedendo in molti specchi d'acqua, cioè che le alghe a causa dell'abbassamento si sono trovate in una condizione più favorevole e quindi il calore eccessivo dovuto alla stagione anomala ha favorito ulteriormente. A fronte di questo c'è stata un'evaporazione. L'evaporazione è il fenomeno concomitante a quello della captazione per l'abbassamento del livello. In pratica l'evaporazione, che qua riuscite a vedere perché in questo sistema, se si riesce ad inquadrare qua sopra, si vede la condensazione proprio dell'acqua un pochino più su, la condensazione dell'acqua ecco, lo vedete? Al di sopra. Il problema è che mentre in questa sfera che è chiusa ermeticamente l'acqua poi ripiove all'interno, nelle condizioni ambientali solite, consuete, questo non accade. E quindi c'è, in pratica, è come un salvadanaio da cui si preleva da due fonti differenti. Da una parte il prosciugamento dovuto alla captazione, l'altro che invece forse è il più preoccupante, è la causa principale, il calore anomalo e quindi l'evaporazione, fatto sta che si sta bruciando la candela per così dire dai due lati. E quindi le riserve idriche in Italia sono a serissimo pregiudizio. Ingegnere Sacani ti guarda atterrito, tra l'altro ingegnere, le dico che questa cosa lui non l'ha fatta apposta per noi, ma l'aveva già a casa, cioè lui aveva già una sfera della NASA con dei calveretti. Il problema c'è, è grave, abbiamo pochi minuti, cerchiamo di capire se ci sono soluzioni. Ecco, è appunto questo, stavamo parlando delle dighe, perché oltre parallelamente al problema del magra, della secca, dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua, quello che succede è che le nostre fonti di approvvigionamento elettrico da fonte rinnovabile sono soprattutto il 27% da idroelettrico. Se c'è un'evaporazione intensa, se i bacini idrici sono vuoti, una parte consistente di energia buona, di energia pulita, non è più disponibile. Allora che cosa hanno fatto in California? Vi faccio vedere che cosa hanno fatto a Los Angeles, nella diga. Il problema è questo, bisogna evitare l'evaporazione. Abbiamo detto che questo è il primo caso, cioè la prima fonte di prosciugamento. Allora che cosa si faceva in passato? Si prendevano dei teli, adesso questo l'ho messo, mettiamolo a favore di camera, ecco qua, ho fatto un segno sopra, per far vedere che si depositavano, ecco qua, sull'acqua i teli, in maniera tale da prevenire l'evaporazione. Ma questo comportava un grande sconvolgimento dell'ecosistema, perché non c'era più scambio di ossigeno, di aria. E allora hanno inventato una cosa straordinaria. Nella diga hanno messo 100 milioni di palline così, sulla superficie. Di che cosa? Sono di plastica. Ma dai! Enrico, come questa qui? Ma dai! Come questa? Come questa qui? Mettiamola qua. Ah, eccola qua. Valerio, questo è troppo semplice per l'Italia, vedrai che si inventano una cosa che ci vogliono tutti i permessi. E questo è l'uovo di Colombo, perché da una parte previene l'evaporazione, perché non espone la superficie dell'acqua e raggi del sol. Dall'altra parte, tra le palline circola l'aria e non pregiudica... Però io l'appalto Consif sulle palline di plastica, non voglio sapere. Dall'altra parte, non voglio sapere.